Vincenzo Serraiocco tiene una conferenza stampa per spiegare le ragioni della sua totale estranetà, la vicenda del fallimento della Progetto Sport, la società che gestiva le piscine Le Naiedi, ma evita il confronto con i dipendenti. Sotto la sede del suo studio questa mattina c'erano quasi tutti, 70 lavoratori circa delle piscine, insieme anche ai genitori dei ragazzi che all'interno della struttura svolgevano attività. Tutti in strada, mentre Serraiocco, ex amministratore della Progetto Sport, la società che aveva in gestione l'impianto, dichiarata nei giorni scorsi fallita, spiegava ai giornalisti presenti le ragioni per cui si ritiene assolutamente strano alla vicenda. Tutte le azioni messe in campo prima delle dimissioni dello scorso gennaio, ha spiegato Serraiocco, erano finalizzate al contenimento delle spese per una struttura oltremodo dispendiosa, una politica evidentemente non condivisa dai suoi soci, da cui la decisione di dimettersi. Serraiocco ha anche spiegato che ci sarebbero i termini per un ricorso contro la sentenza di fallimento, in quanto il giudice parla di crediti incagliati, quelli ovvero che la regione dovrebbe versare, non ha mai versato, ma che comunque spettano la società. E qui siamo oltre il milione di euro. Tuttavia la difesa a Corata di Serraiocco non convince i dipendenti, secondo i quali la sua amministrazione non è assolutamente esente da colpe, e parlano di dimissioni non legate alle controverse con altri soci, ma la sua candidatura alle elezioni regionali, e poi lanciano un appello alla regione. Quello che chiediamo alla regione è in primis di intervenire il prima possibile per far riattivare tutta la struttura, per garantire la continuità lavorativa, la continuità di tutte le attività sportive, parliamo di un centro sportivo che ha all'interno cinque vasche, un palazzetto per la palla a nuoto, ha una storia oltre cinquantenaria alle spalle, quindi io credo che sia il caso che a questo punto la regione scende in piazza direttamente con noi per far capire le vere intenzioni e per darci un minimo di certezza, un minimo, uno spiraglio di luce perché noi siamo completamente al buio. Dipendenti che incassano la piena solida rete dei genitori, presenti anche loro stamane, i quali auspicano che vengano innanzitutto pagati gli stipendi arretrati, e poi chiedono la restituzione dei tesserini dei loro figli, che dopo essere stati costretti a sospendere l'attività, non possono andare ad allenarsi in altre strutture, con altre società sportive.